Ciao a tutti da Pietradami e benvenuti al terzo dei 5 tutorial della scoperta dell'app MyUconnect. Nel tutorial di oggi vi parlerò di quello che a mio insendiacabile giudizio è il quinto servizio più utile di MyUconnect, avvisi di guida. Vi chiederete come mai nel terzo tutorial parli del quinto servizio. Semplice, mentre preparavo il video sono emersi tanti di quei bug e le funzioni sono risultate così poco facili da configurare e l'ho retrocesso. Questa volta non si tratta di una funzione specifica per la 4xE, quindi ne possono usufruire anche le Compass non ibride. Il servizio è in grado di rilevare alcuni dati di posizione e velocità della vettura ed inviarne notifica. Nello specifico si potrà impostare un avviso al superamento di una determinata velocità, quando l'auto viene utilizzata in una fascia oraria specifica, quando si entra o si esce da una determinata area e quando la vettura parcheggiata si allontana dall'area impostata. Sono tutte funzioni un po' al limite della privacy, forse bisognerebbe far firmare una specie di liberatoria a chi si appresta a guidare l'auto, ma all'accensione del display la Jeep avverte che si è geolocalizzati, quindi direi che va bene così. Passiamo adesso ad esaminare una ad una le funzioni del servizio che da adesso in poi chiamerò MyStalker. Cominciamo dal meno utile, avviso di velocità. È possibile configurare fino a 5 limiti di velocità, da un minimo di 65 ad un massimo di 160 km orari. Purtroppo però gli avvisi non possono essere correlati ai limiti di velocità della strada che si sta percorrendo, anche se la 4xE è in grado di leggere i limiti dei cartelli. Attivare la segnalazione del superamento di velocità di 65 km orari ci farebbe solo ricevere una valanga di inutili notifiche. Se proprio volete attivare un limite sensato potreste farvi avvisare quando qualcuno supera i 135 km orari. Limite massimo di velocità in autostrada verranno in cordine di infrazioni, tenendo conto della tolleranza del tachigrafo e quella di un eventuale autovelox. Comunque, nonostante si possano configurare fino a 5 limiti di velocità, io non sono riuscito ad attivare neanche il secondo, neanche tentando di configurarlo via web. Questo è uno dei tanti bug di MyConnect di cui vi parlavo. Bene, passiamo adesso alla seconda funzione, avviso di orario. In questo caso essere avvisati quando la vettura viene utilizzata in determinati orari, per esempio quando la vettura è parcheggiata in un'auto rimessa, potrebbe essere molto utile. Date un titolo all'avviso, scegliete la fascia oraria ed il giorno o i giorni in cui volete attivare l'alert. Se il veicolo verrà spostato sarete avvisati. Non dimenticate di salvare confermando con il pin che avete impostato. Anche in questo caso si possono configurare fino a 5 avvisi, ma questa volta funziona. Passiamo adesso ad avvisi di area limite, che permette di essere avvisati quando la macchina abbandona una certa zona delimitata sulla mappa. Anche in questo caso, se funzionasse correttamente, potrebbe essere utile. Potremmo essere avvisati quando la vettura esce o entra da una determinata area geografica che abbiamo selezionato sulla mappa. Quello che vi sto mostrando però è imbarazzante, funziona malissimo. Sono alla mia quarta Jeep con MyConnect e purtroppo non ho visto molti miglioramenti. Speriamo che con Stellantis la situazione migliori, anche se dalle informazioni che ho, anche il loro software non brilla particolarmente per affidabilità. Dai, ci provo un'ultima volta, deseleziono le aree impostate e sempre a funzionare. Provo quindi ad abilitarne due, anche in giorni diversi, non vorrei mai che entrassi in confusione, ma qualcosa va storto. Dai, mi arrendo, non perdiamo altro tempo, andiamo oltre. Concludiamo la nostra carrellata con la funzione che completerebbe l'avviso orario, introducendo una distanza limite oltre la quale il parcheggiatore non dovrebbe andare. Valley mode. Anche in questo caso l'idea è intelligente, lascio le chiavi al parcheggiatore e vorrei evitare che succedesse come nel film Una pazza giornata di vacanza, film degli anni 80 che vi consiglio vivamente, ma anche in questo caso non funziona. In definitiva, gli avvisi di guida restano in top 5 solo per premiare le idee, ma così proprio non ci siamo. Se il video ti è piaciuto un bel pollicione in su e se poi volessi sostenere questo canale ed essere avvisato alla pubblicazione dei miei prossimi video, iscriviti e attiva le notifiche. Per domande scrivimi pure nei commenti. Ciao da Pietro e alla prossima!